Mal d'America, il titolo del nuovo volume di Limes, che trovate in edicola e liberia da sabato 6 aprile, ovviamente anche sul sito per gli abbonati digitali, ora vi ricordo anche con la nuova app, mi raccomando scaricatela. E ne parliamo oggi con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, è della scuola di Limes, Lucio che tra l'altro adesso aprirà i battenti il nuovo anno scolastico della scuola e quindi in bocca al lupo per questa nuova annata. Allora però parliamo un attimo prima del volume, Mal d'America, quindi l'obiettivo è concentrato sui Stati Uniti d'America e questa perdurante crisi della superpotenza mondiale. Sì, cerchiamo di analizzare da dentro la crisi americana, cioè non tanto nelle sue ripercussioni geopolitiche esterne quanto proprio nel clima interno che si respira, ed è un clima molto critico e soprattutto in peggioramento che condiziona poi anche quello che è l'impero americano nel suo complesso. C'è un aspetto che sottolineo nell'editoriale riprendendo l'analisi di un giovane analista americano, insomma c'è un clima leggermente sovietico in questo momento in America, in che senso? Beh intanto in un senso linguistico, cioè questo cosiddetto politicamente corretto, chiamatelo come volete, questo sorvegliare il linguaggio dal sapore vagamente orwelliano, limite al dibattito, nel senso che specialmente nei gradi alti della formazione americana, nell'università la libera discussione non è più tanto libera, ma questo è un elemento sintomatico che però contribuisce al clima. Perché dal politicamente corretto siamo passati alla cancellazione della cultura e del dibattito, direi. adesso questo è un po' troppo drastico, però perché sovietico? Perché ricordava questo analista, fra l'altro citando un libro di un esule russo in America, come l'Unione Sovietica si è crollata senza accorgersene, cioè improvvisamente si è dissolta perché i sovietici, non i russi, i sovietici si erano talmente abituati a quel clima, a quell'ambiente, a quel sistema, ma magari anche non apprezzandolo particolarmente, anzi, da considerarlo eterno. Ecco, ho l'impressione talvolta che l'America si consideri eterna e questo ovviamente diventa un problema quando ti confronti con una realtà così dinamica, uso un termine gentile, e quindi con tutti i conflitti che sono in corso. Quindi, insomma, la peggiorazione che poteva fare l'Unione Sovietica negli Stati Uniti è stata quella di autodistruggersi? Beh, in un certo senso sì. Possiamo dire che l'Unione Sovietica disciplinava l'America, la costringeva a fissarsi su un obiettivo, a regolarsi su di esso e a non pensare di poter espandersi dovunque. Questa cosiddetta globalizzazione, che fra l'altro è entrata in crisi insieme all'Impero Americano, le due cose sono, possiamo dire, due facce, una geopolitica e l'altra geoeconomica dello stesso tema, cioè l'impossibilità di leggere il mondo da un solo punto, sono venute in evidenza adesso. Allora, hai citato l'Impero Americano e voglio mostrare proprio la carta aggiornata dell'Impero Americano che trovate in questo volume di Limes, perché le carte di Limes stanno una loro vita negli anni, sempre disegnate ovviamente da Laura Canali, anzi vi ricordo questa nuova rubrica, le mappe parlanti, che trovate alcune puntate anche sul canale gratuita, ma in realtà saranno riservate agli abbonati digitali, quindi sul sito per continuare a vedere Laura che appunto racconta, che spiega le carte geopolitiche di Limes. E quindi qui vedete appunto una carta che si è aggiornata nel tempo, Lucio, poi ne vedremo anche altre e questa è la nostra raffigurazione dell'Impero Americano. Sì, ricordiamo perché questa raffigurazione e soprattutto perché abbiamo preso il planisfero diviso tra le flotte americane. Innanzitutto per ricordare che dal punto di vista americano non c'è un spicchio di mondo, in questo caso spicchio di mare, che non sia interessante o che non sia comunque qualcosa dove c'è un interesse americano. E in secondo luogo perché è un impero marittimo, cioè basato sul controllo delle rotte marittime e quindi evidentemente su una presenza forte della flotta. Facciamo un esempio delle difficoltà americane. Forse qualche tempo fa nessuno si aspettava che gli UTI sarebbero stati in grado di minacciare le rotte marittime presidiate dagli americani lungo il Mar Rosso, lungo una rotta principale. Oppure che la dialettica tra Netanyahu e Baden fosse così durante la guerra, così a discapito del lato americano. Quindi oggi la dimostrazione è che gli Stati Uniti non riescono a controllare, a essere presenti su tutto il planisfero. Non solo non riescono, ma non vogliono. Cioè hanno capito, ma non ci voleva moltissimo che si erano sovraestesi, che avevano assunto delle responsabilità un po' dappertutto e questo significava non avere delle priorità, non avere dei punti di riferimento. L'America sta cercando di restringere le sue responsabilità, il che aumenta le nostre. Nel senso, dicono loro, quello che abbiamo fatto noi per tanti decenni, anche a favore vostro, adesso dovete cominciare a gestirlo voi. E voi, in particolare gli europei e italiani, perché poi si pone una questione in particolare per l'Italia. E qua ne approfitto per annunciare anche il Festival di Limes, di Genova, che si sposta, anzi, ritorna in primavera e quindi 10-12 maggio diamo le date per il Festival di Genova, quindi organizzate il viaggio perché il Festival è bello da vedere, in presenza, devo dire, con sempre un successo di pubblico, devo dire, in questo i genovesi sono sempre stati generosi con l'imes e ci sarà ovviamente anche la diretta sul canale per chi può andare a Genova, però stare lì, vivere lì quei giorni del Festival è un'altra cosa. Puoi dire qualcosa sul Festival? Che cosa ci aspetterà? 10-12 maggio al Palazzo Ducale di Genova, il titolo è Fine della guerra, senza articolo. Perché senza articolo? Perché intendiamo fine sia al maschile sia al femminile. Quindi il fine, nel senso lo scopo della guerra, e questo è un tema che dibatteremo a fondo, perché la mia impressione, direi la nostra impressione, è che in questa fase storica noi occidentali, non tutto il mondo, ma certamente noi occidentali, combattiamo delle guerre senza avere chiaro lo scopo. Perché le combattiamo? Per quale pace? Il nesso clauseviziano tra guerra e pace, tra guerra e politica è saltato. Tu prima parlavi degli Yehuti, un gruppo certamente addestrato e armato, ma molto piccolo, che è in grado di mettere in difficoltà le grandi potenze mondiali, cominciare dagli Stati Uniti, è proprio il simbolo di queste guerre che sembrano senza scopo, senza uno scopo chiaro, ma anche senza fine, nel senso femminile, cioè combattiamo delle guerre che sono potenzialmente infinite e che magari hanno un momento di assopimento come un fiume carsico e poi riemergono più potenti di prima. Le guerre medio orientali sono un classico, Israele contro Arabi, ma dovunque tu ti giri ritrovi i vecchi conflitti che tornano di attualità. Quindi i fini della guerra non è una buona notizia, diciamo, qualcuno potrebbe pensare che una volta tanto diamo una buona notizia, sai ci accusano di essere sempre pessimisti, di dare cattive notizie, neppure stavolta, o c'è un aspetto? No, allora, prima di tutto la categoria pessimista-ottimista per un analista è assolutamente impossibile, cioè noi dobbiamo cercare di raccontare le cose come le vediamo, poi naturalmente si discute, ognuno dice la sua. La parte non ottimistica ma operativa è di mettere alla fine, tanto del numero che stiamo preparando per il meeting Genova, ma anche dello stesso incontro di Genova, alcune idee su come finire queste guerre che non finiscono e naturalmente avremo, come sempre, nei festival di Limes una forte rappresentanza internazionale, americani, cinesi, iraniani, israeliani, insomma sarà molto operativo anche questo festival. E a proposito di guerra voglio mostrare quest'altra carta, un altro classico, tutto un altro mondo, anche qui aggiornato in questo volume e vedete appunto i tre grandi fronti, questi cerchi gialli che rappresentano le guerre o le crisi, la sfida sinoamericana, la guerra ucraina, ora la guerra in Medio Oriente, questi cerchi aumentano, Lucio, no? È un po' appunto questa caratteristica, di questa, vabbè si è detto tante volte, possiamo citare il Papa, no? La terza guerra mondiale a pezzi, ma è il segno anche non solo di una caoslandia, altro classico di Limes della carta che insomma si allarga sempre più, ma secondo te è un segno della debolezza non solo degli Stati Uniti di cui parliamo in questo volume, ma anche della stessa Russia e della stessa Cina di cui abbiamo parlato in altri volumi, cioè è una situazione di caos, di debolezza dei tre grandi protagonisti? Sì, tutti i protagonisti, grandi e medi, sono in questo momento in difficoltà se li osserviamo dal punto di vista del sistema, cioè dal punto di vista dell'ordine mondiale, che oggi sembra essere un'utopia, sembra appartenere al passato, un passato irripetibile, perché appunto non c'è un attore, ammesso che ti sia mai stato, in grado di dare le regole al mondo e di più o meno farle rispettare, ma non c'è nemmeno quello che una volta si chiamava il concerto delle potenze, cioè un equilibrio della potenza fra attori più o meno rilevanti i quali si spartiscono delle responsabilità e poi confliggono ai margini dei rispettivi imperi ecco questo che era un po' il modulo classico della geopolitica, addirittura del rinascimento italiano ed è arrivata fino a tutto il Novecento, non funziona più. Allora, torniamo al volume e all'editoriale in particolare, perché tu parli abbastanza diffusamente di Kennan, perché? Perché è un personaggio particolare che forse è stato anche un po' stereotipato per la sua teoria del contenimento eccetera, perché ne parli però tu in questo editoriale? La mia preferenza è immaginare che Kennan servirebbe molto all'America di oggi, cioè una voce fuori dal coro che anziché ripetere ciò che tutti già dicono, o quantomeno le grandi stanze pubbliche americane dicono ha una sua opinione abbastanza precisa, ma soprattutto ha un metodo. Kennan è un americano anticomunista, conservatore, contratti reazionari, ecologista, un tipo un po' particolare però fra le sue caratteristiche aveva quella di conoscere e soprattutto di amare il popolo russo quindi lui era antisovietico, non perché fosse contro la Russia, ma proprio perché gli piaceva la Russia e la vedeva oppressa da questa dittatura e da questo linguaggio comunista. Kennan appunto, conoscendo l'Unione Sovietica, oltre che la Russia da dentro, proponeva la strategia del contenimento che lui immaginava come qualcosa di soft, di morbido, cioè l'Unione Sovietica è talmente piena di contraddizioni al suo interno che è inutile, anzi è dannoso farle la guerra come qualcuno invece in America pensava ma occorre accompagnarla verso l'autodistruzione. Quello che naturalmente non poteva immaginare era che questo si compisse in un tempo relativamente breve che quello che appariva un colosso come era appunto l'Unione Sovietica si disfacesse e quindi alla fine delle fini, in un modo o in un altro, l'America si è trovata impreparata di fronte alla perdita del nemico e quindi anche di fronte a doversi assumere delle responsabilità sulla Russia. Tutto questo in un ambiente all'epoca in cui la retorica, sottolineo retorica anticomunista spesso impediva agli americani di rendersi conto chi avevano davvero davanti. Un'altra característica di Kennan era che era poliglotta, conosceva molte lingue e tu affronti anche questo tema, uno dei problemi dell'America è proprio il dominio dell'inglese a livello internazionale. Sì, perché questa cosiddetta lingua franca, questo inglese internazionale che non è l'inglese dell'Inghilterra e non è nemmeno l'inglese americano o gli inglesi americani ma è appunto questo globish che si parla un po' dappertutto e che più o meno tutti cerchiamo di usare nel dialogo internazionale non è reale, cioè è una mediazione fra quello che noi pensiamo o qualche volta anche diciamo nelle nostre lingue e quello che trasmettiamo. Quindi faccio degli esempi, se uno prende quello che si dice anche pubblicamente in documenti scritti nella lingua nazionale e fa una comparazione tra questo uso dell'inglese come lingua franca con la lingua nazionale si accorge che magari anche inavvertitamente, inconsciamente si usano registri diversi, si usano proprio frasi diverse e quindi la comunicazione viene un po' falsata. Conoscere dall'interno intanto la propria lingua che non è così ovvio ma soprattutto le lingue altrui ma le lingue si intende anche i modi di pensare, i modi di ragionare, i modi di comportarsi, i costumi, se questo non si conosce o si cerca di conoscere si va a sbattere, la geopolitica non si fa da soli. Quindi per esempio anche a livello diplomatico addirittura negli Stati Uniti c'è una scarsa conoscenza delle altre lingue e quindi una scarsa conoscenza degli altri paesi, degli altri mondi, perché la lingua consente anche questo. Allora sveliamo anche una delle caratteristiche di Limes, spero me lo permetterai, e cioè le traduzioni. Come insomma conoscere una lingua e anche conoscere l'altro paese, uno dei forse esercizi geopolitici più delicati è la traduzione, perché come dicevi tu, a seconda in che lingua si scrive cambia un po' anche la versione, soprattutto in certi paesi dove la dissimulazione è la costante. Perché è così importante tradurre e come Limes traduce gli articoli? Non usiamo chat GPT, se questa è la domanda, nel senso che quelle non sono traduzioni, sono riproduzioni meccaniche, anodine, che non danno il senso profondo o la pluralità di sensi che c'è nell'espressione linguistica di quel paese con la sua cultura. Quindi cerchiamo di avere delle traduzioni che non siano semplicemente letterali, anzi ogni traduzione deve essere un miglioramento dell'originale, cioè non puoi riprodurre perfettamente, però lo devi interpretare a partire dalla sua logica interna. Quindi tradurre dal russo, dal francese e dal tedesco non solo presuppone la conoscenza della lingua, ma la conoscenza della cultura, della storia, dei tic che sono caratteristici delle varie lingue. Poi consideriamo anche che la struttura grammaticale e sintattica delle lingue che si parlano nel mondo è talmente diversa. Quello che cerchiamo di evitare è la traduzione meccanica, almeno finché dura l'IMES, vi assicuro che non saranno fatte meccanicamente. E allora, citando sempre Kennan, che appunto si medisimava talmente nella cultura dell'avversario, tu citi ovviamente nell'editoriale anche George Friedman, il geopolitico americano, sempre sottolineo George Friedman, a non confondere con gli altri Friedman, e che lui dice appunto l'analisi geopolitica è amare il nemico, bisogna amare il nemico per conoscerlo. E quindi la traduzione può essere considerata l'esercizio di analisi geopolitica più complesso e più importante? Assolutamente sì, Alf, sono perfettamente d'accordo, la traduzione non è semplicemente trasferire nella tua lingua quello che dice un altro, ma appunto entrare nel modo di pensare e di dire dell'altro che è di fronte a te, perché la geopolitica inevitabilmente è un confronto. E quindi voglio sottolineare che l'IMES si traduce tanto, perché per ogni volume, per esempio in questo volume americano sono tante le voci americane per capirle, ma sono altrettanto importanti i nomi di quelli che trovate alla fine dell'articolo, traduzione di, quindi mi raccomando, quando leggete l'IMES guardate anche quel nome perché è molto importante. Sono autori come gli autori. E allora vi ricordo, Mal d'America dal sabato si aprite dico la libreria e sul sito per gli abbonati digitali, il festival di l'IMES, fine della guerra, 10-12 maggio a Genova, mi pare di aver detto tutto Lucio. Sì, assolutamente e ci vediamo a Genova spero. E allora alla prossima. Grazie.